Buonasera e bentornati ad Attualità Granata Incominciamo la puntata intanto con le doverose scuse agli ascoltatori per aver mancato l'appuntamento di ieri L'appuntamento di ieri era pronto per me essere messo in onda ma purtroppo alcuni problemi tecnici hanno stoppato la messa in onda di Attualità Granata di martedì 18 marzo Ci scusiamo con tutti gli ascoltatori e ricominciamo da questa sera il quotidiano appuntamento con l'informazione Granata Incredibile novità per quanto riguarda Attualità Granata Infatti come si legge sul documento redatto dal giudice Tosel Dunque dalla giustizia sportiva che regola ogni settimana le sanzioni disciplinari della Serie A Il signor Cairo Urbano, ovvero Urbano Cairo, ovvero il presidente del Torino FC E' stato ammonito con diffida per avere a termine della gara negli spogliatoi contestato l'operato degli ufficiali di gara Rivolgendo loro un'espressione irrispettosa L'infrazione è stata rilevata da un arbitro addizionale Questo è l'ennesimo caso di prese di mira da parte della classe arbitrale nei confronti della dirigenza Granata Che ricordiamo ha delegato al silenzio stampa la propria forma di protesta Sempre a riguardo del fallo su Glick di Higuain che ha poi portato al gol del Napoli Ha parlato anche Fabio Baldas, ex arbitro che nell'ambito di un'intervista rilasciata a tutto il mercato web ha affermato Francamente non ho capito cosa ha valutato Doveri Glick era davanti di Higuain ed è caduto Quello un fallo, punto e basta Perciò anche a seconda di un ex arbitro internazionale Era necessario fischiare il fallo sul partenopeo Apriamo la parte di calcio mercato È il Bologna la squadra sulle tracce del difensore classe 1994 Davide Cinaglia Attualmente in prestito tra Torino e Ferralpi Salò Secondo quanto riportato da Torino Granata Il difensore sarebbe continuamente monitorato da DS Granata Ma anche dagli osservatori del Bologna Che avrebbero messo nel mirino il giocatore classe 1994 Per rafforzare la linea difensiva del futuro Non si fermano le voci riguardanti Il futuro trasferimento di Alessio Cerci L'ultima riguarda il Milan Infatti secondo le discrezioni Sedorf avrebbe scelto Alessio Cerci Come punto d'inizio per la ricostruzione del Milan del prossimo anno Tornata molto importante per il processo di ricostruzione Dello Stadio di Filadelfia Infatti oggi si è tenuto il consiglio dei fondatori Alla presenza di Urbano Cairo, Presidente del Torino Fassino, Sindaco di Torino E anche Roberto Cota, Presidente della Regione Cairo si è detto ottimista riguardante Al leader di ricostruzione del leggendario Stadio Granata E ha ribadito che il Toro manterrà le promesse E verserà i soldi pattuiti affinché lo stadio si ricostruisca Se il torneo Beppe Viola di Arco di Trento Ha lasciato l'amore in bocca agli allievi nazionali Classe 1997 di Andrea Menghiri Non si può dire altrettanto dell'allieve del Torino Calcio Femminile Infatti Ozzimo e compagni hanno trionfato nel torneo femminile Battenne i finali le parietà del Firenze per 3-0 Con due gol di favole e un gol di Tordella Dopo un ruolino di marcia invidiabile Tra cui una vittoria per 4-0 sul Napoli Ricordiamo che formalmente il Torino e il Torino CF Ovvero il Torino Calcio Femminile Non è legato in alcun modo alla società Torino FC Infine una notizia non molto lieta È mancato a 77 anni a Sondalo in provincia di Lecco Francesco Maraschi Giocatore, allenatore e scopritore di talenti valtellinese Tra i tanti calciatori scoperti C'è anche l'attuale numero 1 del Torino Daniele Padelli Tra i due, Padelli e Maraschi C'è sempre stato un grande rapporto Padelli ha giocato per la prima volta in Alcol Torino E in questa stagione si sta distinguendo Come uno dei migliori portieri della massima serie A volte il calcio è strano nel non comprendere talenti nascosti Termina così la edizione odierna di Attualità Granata Ha condotto Matteo Mero Da Radio Granata un auguri di una buona serata E di una buona continuazione